Ora la macchina è pronta, è pronta per piacere una coppia di espresso. Questo fennel è per due coppia di espresso, circa 14 grammi di poudre, quindi due coppia di espresso. Poi mettiamo due coppia di poudre. Poi mettiamo il tamper. Dopo il tamper, il poudre non deve passare la linea maximale. Poi mettiamo la lima. Poi mettiamo la lima. Prendiamo per un secondo qualche acqua di acqua. In questo modo la parte è anche acqua per un perfetto espresso. Assembliamo il capo in una posizione lockata. Molto attenzione di questo. La macchina ora è pronta, la temperatura è pronta. Poi mettiamo la coppia. Poi mettiamo la coppia di acqua. Poi mettiamo la luce verde. Prendiamo la coppia. Se ci sono alcuni ruoli, significa che non c'è acqua in acqua. Quindi deve restare la coppia di acqua di acqua in acqua. Prendiamo la coppia di acqua di acqua. Quando mettiamo circa 30 ml di caffè per ogni coppia, stoppiamo la crema. Prendiamo il espresso. Riesciamo il pò. Non c'è acqua nel pò. Il pò è forte, non c'è acqua di acqua. Dopo aver usato la coppia, possiamo cuocere il pò con acqua di acqua. Poi, nella macchina, abbiamo ancora un po' acqua di acqua. Prendiamo la tenzione, perché è acqua, con una macchina spesa, abbiamo messo la parte per eliminare la coppia di acqua. Grazie a tutti.